Il bello della vita è che noi siamo vivi. Una celebre attrice iraniana riceve il video di una ragazza che implora il suo aiuto per fuggire un destino che non è il suo. Marzi Ye sogna di fare l'attrice ad ogni costo, anche a quello di suicidarsi. Allevata in un villaggio di montagna, la ragazza è allieva del conservatorio a Teheran, ma il fratello autoritario la costringe ad una vita rispettosa delle regole. Almeno fino a quando l'attrice prediletta non si mette in viaggio per raggiungerla. Impedito ad uscire dal suo paese e condannato a non esercitare più la sua professione, Jafar Panai si guadagna la vita come conducente. A bordo di un taxi o di un 4x4, continua la sua riflessione nomade sulla società iraniana. Imbarba la censura. Opera illegale, tre volti, è una formidabile cassa di risonanza politica. Sotto una sarabanda di incontri divertenti e poetici, il film è un autoritratto dell'artista al volante.